E' andato al procuratore Antonio De Donno il premio capitello indetto dalla CISL Brindisi Taranto, giunto alla quinta edizione, non un riconoscimento a caso ma all'uomo e al professionista che sta svolgendo un grande lavoro affinché la legalità vinca sulla criminalità in un territorio in un periodo di crisi in cui le tentazioni a delinquere soprattutto per i più giovani potrebbero essere in aumento. Una legalità che deve essere ricca di sostanza e non soltanto mera affermazione di forma. Non si può essere soddisfatti della semplice applicazione formale della norma, occorre in concreto impegnarsi perché attraverso lo strumento giuridico e normativo, attraverso il proprio lavoro si riesca a far crescere un territorio, a dare risposte di legalità ma anche in termini di opportunità. Ma anche i morti sui posti di lavoro spesso sono frutto di mancanza di legalità. Sono al 31 ottobre 55 le morti bianche in Puglia, un dato che il sindacato in primis vuole far scendere drasticamente. Solo allora si potrà dire di aver fatto un buon lavoro. Come sindacato siamo stati molto attenti al tema della legalità perché anche le morti sul lavoro sono legalità. Non è possibile nel 2021 avere ancora realtà come la Puglia che ha contato 53 morti. Non è possibile un paese che si dice di essere un paese civile dove una persona la mattina esce, talvolta anche per un reddito, certe volte anche sotto il limite della povertà e deve rischiare la morte. Abbiamo avviato un percorso anche con la regione Puglia ma anche sul territorio Taranto Brindisi. Quindi è necessario che ci sia grande attenzione e soprattutto le ispezioni devono essere mirate ma devono ovviamente poi dare anche dei riscontri così come sappiamo che si sta facendo.